Stasera io parlerò di jazz perché a me personalmente piace tantissimo questo genere che ha una grande cultura o come dice la grande Nina Simone è anche un modo di essere, uno stile di vita e come sempre è anche molto importante di parlare di donne perché come in tutti gli ambienti spesso le donne anche se sono state bravissime in questo caso musiciste, compositrici, artisti, cantanti vengono dimenticate nei libri della storia e stasera voglio iniziare appunto con una donna molto importante che ha dato le fondamenta a tutte le altre artiste che poi l'hanno seguita come vedete io parlo di Lady Day, Billie Holiday che è nata il 7 aprile nel 1915 a Philadelphia e Billie Holiday è nata come Eleonora Fagan di due genitori adolescenti sicuramente troppo giovani infatti l'infanzia di Billie Holiday è stata purtroppo caratterizzata da violenze, abusi sessuali e dopo essersi, dopo essere arrestata dalla polizia per prostituzione e per non doversi più prostituire si esibisce in un nightclub come ballerina però si rende conto subito che non è molto capace come ballerina e così decide di cantare e il resto noi lo conosciamo viene chiamata dalle altre ragazze Lady perché è l'unica a non tirare sulla gonna per accettare le mance cambia il suo nome in Billie Holiday Holiday è il cognome del suo papà e Billie è dedicata a un'attrice che si chiamava Billie Dove una delle sue caratteristiche erano le gardenie nei capelli per questo stasera anch'io ne ho messa una per darle un tributo e nel 39 ha pubblicato una canzone un po' particolare che era una poesia scritta soprattutto dedicata alle violenze razziali e contro il linciaggio verso la popolazione afroamericana per questo lei ha avuto tantissimi problemi e l'industria musicale comincia a rifiutarsi di suonare le sue canzoni più avanti viene arrestata per possesso di droga e perde la sua cosiddetta cabaret card che a New York serve per potersi esibire in nightclub, jazz club e quindi diciamo che la sua carriera ha un brusco fine si esibisce un'ultima volta al Carnegie Hall davanti a ben 2700 persone ma la sua vita finisce molto tragica ha 44 anni, ammannettata in un ospedale e ancora arrestata per un'ultima volta stasera io sono felice di ricordarla con una canzone allegra di Mark Seymour che lei ha reso molto famosa all of me all of me all of me I never lose them take my arms I never use them your goodbye left me with eyes that cry how can I go on dear without you you took the pie that was once my heart so why not take all of me va vai 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 All of me Why not take all of me Can't you see I'm no good without you Take my lips I wanna lose them Take my arms I never use them Your goodbye Take me with eyes that cry How can I go on day without you You took the part that was once my heart So why not take all So why not take all So why not take all of me Why not take all of me Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you